ciao a tutti oggi prepareremo il cappuccino il tempo di preparazione della ricetta è di 6 minuti gli ingredienti sono latte freddo di frigo caffè e cacao in polvere andiamo il via alla ricetta andiamo a mettere nel boccale il latte chiudiamo il boccale andiamo ad azionare i bimbi per 3 minuti a velocità 4 in questo momento il bimbi sta montando il latte questo sarà l'effetto del latte montato adesso lo andremo a scaldare come vi ho detto prima è importante che il latte sia ben freddo di frigo non appena ma ben freddo di frigo andiamo a scaldare per tre minuti 70 gradi velocità 3 dopo aver scaldato il latte adesso prepareremo il nostro cappuccino andiamo a prendere una tazza andiamo a versare il latte all'interno della tazza anzi prima andiamo a mettere il caffè e adesso versiamo il latte all'interno della tazza adesso con uno stencil per cappuccino andiamo a fare il nostro decoro cappuccino bimbi grazie e alla prossima ricetta ciao 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 Grazie a tutti.